in Senato, a voi. Sì, è già proprio così, Elga. Noi siamo in compagnia di Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, sicuramente tra le opposizioni, la componente delle opposizioni che forse più duramente ha contestato questo voto, questo risultato. Comunque questa riforma all'Italicum, in testa ovviamente Beppe Grillo che l'ha denominato pregiudicatellum, definendolo incostituzionale. Noi lo diciamo da settimane con una riforma incostituzionale. Oggi abbiamo detto una parola forte, l'ho detto io, ma è la realtà. È un vero e proprio omicidio della democrazia. Vengono eliminate le preferenze, anzi non vengono introdotte le preferenze e si crea un Parlamento di nominati. Si mette tutto il Paese e il Parlamento in mano a due capi che hanno un nome e un cognome e sono Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Comanderanno su tutto e su tutti. I parlamentari non avranno voce, non potranno rappresentare i cittadini ma rappresenteranno solo la voce di un capo. Ciò significa che siamo di fronte ad una vera e propria dittatura del capo e non ad una democrazia parlamentare, come dice la Costituzione. In maniera anche abbastanza colorita, tra l'altro esponenti anche del Movimento 5 Stelle hanno esposto un cartellone che ritraeva Renzi e Berlusconi, come insomma ci dica lei. Come un innamoramento tra due persone quando invece Renzi, l'erottamatore, cosa sta facendo? Si sta, anzi si è innamorato, di quella persona che per vent'anni ha comandato in Italia e che ci ha portato in questa condizione. Vedete voi se Renzi è il nuovo che avanza. Noi diciamo che questa è una politica che è finita, lo prova alla morte del Porcellum, con la morte del Porcellum, con la sentenza della Corte Costituzionale, muore un ventennio di politica. Loro non lo vogliono capire, ma le prossime elezioni vedremo come il Movimento 5 Stelle, e gli italiani lo hanno capito, rappresenta per la prima volta dopo vent'anni i cittadini e le loro necessità. Aspetta, però c'è un dato sicuramente incontrovertibile, il fatto che comunque dopo tanto tempo alla fine un voto c'è stato su una riforma, tra l'altro lo stesso Renzi ha parlato di un risultato, politica 1, disfattismo 0. Era forse rivolto anche a voi quel disfattismo o soltanto a una parte della maggioranza? A noi non piacciono gli slogan e non piacciono i titoli. È stata fatta una legge elettorale, anzi è passata alla Camera una legge elettorale. Ma che cos'è questa legge elettorale? È un obbrobrio democratico, è un attacco alle libertà democratiche dei cittadini. A noi interessano i contenuti, non interessano i titoli. Noi vediamo un primo ministro che è esclusivamente caricato a slogan, dietro i quali non c'è nulla, neppure nella legge elettorale. Bene, Elgate. Grazie per...